Il Pepe per vincere c'è la Pescara. Sono i 35 punti di Simone Pepe a fare la differenza tra gli abruzzesi e l'Ambrosia Biceglia nella terza giornata di ritorno della Serie B di pallacanestro. Non bastano alla squadra di casa gli innesti di Mauro Stella e Gianmarco Leggio per trovare la continuità nei successi dopo quello della settimana precedente in casa del Mola. Le differenze di classifica tra Pescara e Biceglia alla lunga si vedono, anzi in alcuni momenti della gara sono state anche marcate. Ambrosia mai padrona della partita, anzi costretta sempre ad inseguire già nei primi minuti. L'unico momento di equilibrio arriva fin troppo presto sul 14 pari con i canestri di Torresi, poi è sempre un rincorrere dei Bicegliesi che si avvicinano a Pescara sul 32-31. Provano a non farsi staccare troppo durante la terza frazione arrivando a meno 4 ma subiscono i tiri facili di Pescara e la verve di Simone Pepe. Suoi 35 punti con 6 canestri pesanti che sanciscono anche il massimo vantaggio a Bruzzise sul 65-53 che l'Ambrosia riesce a ricucire in maniera parziale con i canestri di Mauro Stella. I botte in risposta tra le due formazioni, in avvio di ultima frazione, rendono frizzante la partita ma non cambiano l'inerzia della stessa. Biceglie si aggrappa sino almeno 5 ma sciupa almeno 4 occasioni per accorciare ulteriormente da Pescara, poi risale a soli 3 punti dagli avversari senza trovare le giocate giuste per ribaltare una partita mai tenuta in pugno. La classifica resta al di sotto delle aspettative e anche i playoff cominciano a diventare un traguardo troppo lontano.